Anche da casa puoi scegliere il tuo futuro. Mi chiamo Alessandro e sono uno studente del terzo anno del corso di laurea in Scienze del Turismo. Sono molto felice di aver scelto l'Insubria, perché per me significa avere un percorso didattico molto formante e ben tracciato, con un corpo docente e un personale universitario davvero professionale e molto disponibile. Tutto ciò insieme ad una grande varietà di attività inerenti al cammino che ho intrapreso e tanto interessanti quanto utili. Nella speranza che questo periodo difficile possa terminare al più presto, faccio un grande augurio a tutti e vi aspettiamo qui all'Insubria.